Abbiamo l'onore di freggiarsi dell'accordo tecnico con la PIC Italia Spa. Chi ha visto le partite delle Olimpiade e soprattutto delle squadre del torneo di basket ha visto che molte squadre erano sponsorizzate dalla PIC. Noi siamo contentissimi perché l'accordo è sorto spontaneamente. Loro avevano un grosso interesse ad avere la possibilità di collaborare con noi. A noi ci ha fatto molto piacere questa cosa perché la società è di livello internazionale e quindi per noi è molto importante. Piano piano vedremo che tipi di collaborazione potremo allargare sempre con loro. Siamo contenti, molto contenti ovviamente. L'onore di questa collaborazione diciamo che ce lo dividiamo perché è un piacere nostro. PIC è una multinazionale cinese che opera in quasi tutti i mercati europei ed extraeuropei. È una multinazionale importante. Abbiamo accennato alla grande esposizione mediatica che abbiamo avuto durante le Olimpiadi. Hai fatto menzione di alcune nazionali di pallacanestro, nello specifico la Germania, la Serbia, la Nigeria, solamente per rimanere nell'ambito della pallacanestro nazionale e delle squadre che l'Italia ha affrontato direttamente o indirettamente. È un marchio che ha una sua storicità. Ormai sono più di 15 anni che è presente nel mercato. Parte come marchio di calzature sportive e poi riesce ad espandere e a coprire un po' tutti quelli che sono i bisogni dell'atleta, ponendo l'atleta al centro. Noi come PIC Sport Italia siamo distributori e licenziatari esclusivi di PIC sul territorio nazionale e abbiamo cominciato quest'anno a rivedere un po' i nostri piani di sviluppo compatibilmente con la grande esposizione mediatica che gli Olimpiadi ci hanno fornito. E Civita Vecchia e la Stemar nello specifico rappresentano per noi un caposaldo di quella che deve essere l'espansione sul territorio che andrà dal locale a espandersi sempre di più. Quindi noi abbiamo i nostri uffici a Roma, la nostra sede principale è a Roma e Civita Vecchia rappresenta un punto nevralgico del nostro piano di sviluppo per quanto riguarda la parte nord di Roma e nord del Lazio.